cari amici ben arrivati a questa nuova puntata di avvocato risponde vi ricordo sempre di segnarvi i recapiti che vedete in sovraimpressione per avanzare gli argomenti che vorreste trattare qui alla nostra rubrica del giovedì allora oggi parliamo di un tema che interessa sicuramente tutti noi perché sarà capitato sicuramente a ognuno di ricevere delle telefonate al cellulare o a casa di operatori che offrono contratti di luce o di gas ne parliamo oggi perché proprio recentemente c'è stata una sanzione da parte dell'autorità garante nei confronti di un operatore che commercializzava contratti di luce e di gas per il comportamento scorretto e in particolare per il mancato disciplina mancata disciplina corretta del gdpr cioè del provvedimento sappiamo europeo 379 del 2016 che in qualche maniera disciplina tutta la problematica legata appunto ai dati personali che cosa era successo era successo che questa operatore si era affidata ad un'agenzia esterna cioè a degli agenti i quali andavano di casa in casa o telefonavano alle case delle persone proponendo questi contratti magari riuscendo anche ad entrare a contatto con le persone e a prendere i dati della loro carta d'identità del loro codice fiscale quindi avere magari anche davvero questi dati in mano magari anche facendo delle fotografie delle loro dei loro documenti ad un certo punto queste persone si vedevano a ricapitare a casa le bollette erano passati con il nuovo operatore senza aver espresso un chiaro e lucido consenso al passaggio di operatore quindi alla stipula di un nuovo contratto per la fornitura di gas o di energia elettrica a questo punto le persone hanno fatto le segnalazioni all'autorità garante dei dati personali e questo è il punto su cui vorrei soffermarmi qui oggi perché noi che siamo a casa e che riceviamo queste telefonate dobbiamo sapere che c'è anche questa possibilità per potersi difendere per poter vedere tutelati i propri diritti cioè quella di fare delle segnalazioni all'autorità garante denunciando certi comportamenti in violazione in particolare dell'articolo 5 sul trattamento di dati personali ed esercitare i diritti che sono contenuti negli articoli 12 e seguenti cioè la cancellazione dei propri dati per esempio la rettifica oppure perché appunto non si vuole essere ulteriormente disturbati questo lo dobbiamo sapere perché queste segnalazioni devono pervenire alle autorità garanti quando ci sono degli illeciti bene che cosa fece allora tornando al nostro caso l'autorità garante che cosa ha fatto recentemente ha aperto un'istruttoria e ha verificato che questa agenzia di fatto non raccoglieva il consenso effettivo alla stipula del contratto attraverso una firma o anche solo telefonicamente ma si limitava a presentare i propri contratti le proprie offerte a recuperare i dati e già solo con quello faceva poi partire il contratto come se ci fosse stato un consenso a questo punto l'autorità garante ha stabilito che non essendoci un consenso all'apertura del contratto né alla gestione dei dati personali in maniera concreta c'era stata vera e propria violazione del gdpr e quindi come tale ha sanzionato con ben 5 milioni di euro questa azienda erogatrice dei servizi cioè del gas e dell'energia elettrica non l'agenzia che in qualche maniera aveva piazzato i contratti ma proprio il soggetto che si era avvalso di questa agenzia e ha stabilito poi ulteriori prescrizioni ad esempio un controllo molto fitto su quelli che erano i consensi che venivano che vengono erogati dalle persone per l'apertura del contratto oppure un controllo molto serrato sui dati che l'agenzia passa all'operatore e quindi una verifica del loro comportamento cioè che sia effettivamente raccolto con coscienza e volontà il consenso all'apertura del contratto e anche altre disposizioni come ad esempio la rettifica dei dati contenuti o la cancellazione entro poi un certo periodo di tempo in questo modo quindi questa sanzione da parte dell'autorità garante di 5 milioni di euro ci consente di poter manifestare anche la nostra il nostro come dire di avere di fronte a noi un provvedimento che ci tutela in caso in cui subissimo comportamenti di questo tipo ma costituisce anche un monito alle aziende affinché i comportamenti di questo tipo possono determinare sanzioni così pesanti bene tutto questo per dire che cosa per raccogliere un po' quello che è accaduto per prenderne coscienza ma soprattutto per sapere che di fronte a queste telefonate moleste a questi contratti che vengono aperti in maniera ingiustificata abbiamo degli strumenti di tutela che devono essere attivati bene io con questo vi ringrazio vi do appuntamento a giovedì prossimo e vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di avvocato risponde e vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di avvocato risponde